Eccoci qua, torniamo anche qui in un altro stand familiare per noi sposi, siamo al Paradiso, quest'anno parliamo con Lina che è la responsabile appunto del Paradiso, che ci presenta questa location molto bella e importante di Milazzo. Sì, è bella, è importante, è già tanti anni che esiste, abbiamo fatto diversi matrimoni, è una bella location che si struttura sul mare, ha un ampio parcheggio, bellissima. E soprattutto insomma c'è la possibilità di fare anche un evento all'esterno e all'evento all'interno perché c'è una bellissima vista sul mare. Infatti facciamo diversi matrimoni anche civili, con vista sul mare proprio bellissimo, eventualmente c'è anche cattivo tempo, noi possiamo fare matrimoni all'interno, così da non andare a impedire il matrimonio, come suol dire. Noi spesso, come faccio tutte le volte che mi trovo in location belle e importanti, la domanda che faccio di rito è quella, va bene la bellezza ma la qualità del cibo, lì anche ci mettete molto impegno, immagino. Molto impegno e anche la nostra carta d'ingresso, diciamo, qualità e bellezza. Con diverse opzioni, anche per chi noi, una cosa di cui parliamo sempre sono le intolleranze, le insomma siete preparate anche su quello. Siamo attrezzati a tutte le tipologie di menù, perché è intollerante, perché è celiaco, vegano, vegetariano, ormai siamo pronti a qualsiasi evenienza, diciamo. Ok, allora ricordiamo dove si trova il Paradiso? Il Paradiso si trova al Capo Milazzo, sotto il faro, con un bellissimo promontorio sul litorale di Milazzo. Grazie e buona fiera. Prego, grazie.